Cosa di grande in questo campo? Purtroppo la facoltà è a numero chiuso e i vari raccomandati impediscono a me e a tanti altri amanti degli animali di fare quello che amiamo fare. Tu che ne pensi? Penso che è uno schifo, è uno schifo, ma come in tutte le cose in questo paese. L'ho sempre detto, questo è un paese di leccaculi, ladri e puttane. Vengono premiati solo queste tre categorie, purtroppo. Sì, purtroppo. È così che funziona. Ma quando? Ma quando ci saranno delle leggi a proposito della dignità?